Fabio buongiorno. Buongiorno. Allora, mi racconti un pochino com'era la sua situazione. Allora, la mia situazione un po' di mesi fa era di una grossa blefarite con una situazione di calaziosi ricorrente e devo dire che adesso sono molto migliorato negli ultimi tempi, sto molto meglio sia come il rossore degli occhi anche come la cremazione. Abbiamo fatto quattro sedute di luce pulsata con radiofrequenza e una terapia personalizzata e adesso direi che non ha più gli occhi rossi. No, non ho più gli occhi rossi, mi sento decisamente meglio. Bene, la ringrazio. Prego, grazie a voi.